La nuova amministrazione degli Stati Uniti La nuova amministrazione degli Stati Uniti Le istituzioni, quei fatti ci mettono davanti una evidenza. Le democrazie sono sistemi fragili e per non spegnerli vanno difesi, proteggendo il bene comune, la partecipazione, la trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini. Non dimentichiamolo mai, davanti a un mondo in profondo cambiamento è sempre più incerto. Beh, oggi abbiamo una crisi, una crisi pandemica e solo se l'affrontiamo insieme saremo efficaci. Per questo accolgo con favore l'impegno degli Stati Uniti a tornare nell'Organizzazione Mondiale della Sanità e mi congratulo con il Presidente Biden per il suo impegno a rientrare negli accordi di Parigi. Solo insieme riusciremo a costruire un mondo più verde e un mondo più giusto. L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono partner naturali, con valori e storie condivise. È un impegno di lunga data sullo Stato di diritto, la difesa dei diritti umani, il multilateralismo. Non vediamo l'ora di incontrare il Presidente Biden, lo invitiamo a venire al Parlamento Europeo per tenere un discorso nella nostra sessione plenaria.